Le farfalle non finiranno mai! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti in Ombretta su Arte per te Qui su Arte per te le farfalle sono difficili, difficili a scomparire Perché mi piacciono un sacco Oggi ho creato una card che ho voluto condividere con voi Per la freschezza del motivo e per la bellezza pittorica della card Una card fatta con pochi materiali, con dei timbri Ma poi resa unica e personale con una bella passata di colore e pennello E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa Ed eccoci pronti per creare una bellissima card tema Butterfly Farfalle E' un progetto che sto sviluppando per la Bobanni Ma non importa perché potrete rifarlo con le vostre cose che avete abitualmente in casa Un taglio a balze Un paio di forbicine Il bulino per fare le pieghe Una colla stick Un timbro a forma di farfalla Non vi preoccupate se non avete i timbri Non vi sarà necessario per forza Basterà anche disegnarla a mano libera O scaricare la sagoma di una farfalla da internet Quindi ricalcarne l'orma Io avrò anche la base in plexiglass per i timbri E i tamponi naturalmente ad inchiostro Per colorare l'interno della mia farfalla Mi avvarrò dei miei color brush della Pentel Voi se non li avete Non dico di comprarli per fare un bigliettino Ma potete usare anche gli acquarelli O se avete dei colori a spirito Che si solubilizzano in acqua Potete utilizzare anche quelli E quindi acquarellarli Righello Base da taglio E poi la carta Deve essere In realtà vi occorrono due carte Una carta con un pattern tutto bello pieno E una carta invece con un pattern più rilassato Ora vi faccio vedere cosa intendo Quindi una card bella piena E magari un'altra Con un pattern così più rado Sempre che si accordi O così, o così insomma In cui si possa anche scrivere un messaggio Perché sempre di card trattasi Quindi non deve tradire il senso di quello che è Ci occorrerà anche una carta Per creare una sagoma Poi vi spiegherò il perché Ci occorrerà anche un microlaccetto Di un colore che si accordi alla nostra card E ovviamente matite e gomma In tutti i tavoli creativi Sempre a portata di mano Come prima cosa Prendiamo il timbro della farfalla Che vogliamo riprodurre E timbriamolo sulla carta da sagoma Quella che vi avevo detto prima Io farò due card Ve ne farò vedere solo una Perché saranno molto simili Nel momento della realizzazione Poi magari invece In addirittura d'arrivo Poi tra le foto Vi faccio vedere entrambe le card Che ho fatto E io stampo Non si vedono molto Ma non importa Per quello che devo fare io Perché adesso Con le forbicine Devo Ad una certa distanza Ritagliarne la sagoma A due millimetri di distanza Ed ecco qui la sagoma Come vedete Mi sono mantenuta più larga del margine Di circa due millimetri Ora la piego a metà E quello che mi serve È una delle due metà Soltanto una Quindi scelgo quella Che secondo me è venuta meglio E ritaglio esattamente Al centro Voilà Ecco quello che ci serve Mettiamolo da parte Adesso creiamo Il corpo della card vera e propria Ricaviamo quindi Un rettangolo di carta Che sia Trenta centimetri Per nove Arrivati a questo punto Prendiamo la nostra sagomina Di Così Sacrificio E vediamo Quanto Lei occupi Dal suo centro Alla parte Più larga Voilà Le prende Uno, due, tre Quasi quattro centimetri Quindi io devo lasciare Un margine Che sia Quattro centimetri a destra Dal mio rettangolo E quattro centimetri Uno, due, tre, quattro A sinistra Sia nella parte superiore Che nella parte inferiore La parte interna Dei miei quattro Misurerà a questo punto Ventidue centimetri Quindi il centro Si porrà in undici E lo segno anche Divido Divido le parti Che sono rimaste Una e due Quindi Quella da zero a undici E quella da undici A ventidue Esattamente A metà Cioè Cinque e mezzo Da una parte E uno, due, tre, quattro Cinque e mezzo Dall'altra Quindi Sul margine inferiore E sul margine superiore Dovremmo prendere Le seguenti misure Quattro E facciamo un punto Poi Nove e mezzo E facciamo un altro punto Quindici Venti e mezzo Ventisei E quindi Trenta Sia nella parte inferiore Che nella parte superiore Su ognuna Di queste righe Queste misure Dovremmo praticare Una linea Una piega E allora Con il bulino Praticchiamo Una bella piega Qui Tranne che Nella misura Di mezzo Lì non va Nessuna piega Ok E chiudiamo così La nostra cardina Ma non è finita qui Perché con la rimanente Parte Dovremmo fare Delle mascherine Per i due margini esterni Rimasti chiari Ed il margine interno In cui dovremo scrivere Il nostro messaggio All'interno oramai C'è rimasto un rettangolino Undici centimetri per nove Quindi adesso Tagliamo un rettangolino Che sia Dieci centimetri Per Otto Una volta visto Creata la mascherina centrale Potremo scrivere All'interno Il nostro Messaggio Io A contrasto Io vorrei Preparare Anche delle mascherine Laterali Ok A questo punto Quello che abbiamo Sarà questo Con Un foglietto Di carta Creiamoci La stampata Della nostra Farfalla Con un colore Che ci piaccia Nel mio caso Ovviamente O mamma Userò Il verde Stampata La mia farfallina Su un pezzetto Di carta Che abbia Lo stesso pattern Dell'interno Della card Ma che sia Differente Da tutti i pezzi Che vi ho detto Prima Vado a Ritagliarla Lasciando Un margine Di circa Due millimetri Ne ritaglio Anche le forme Quindi Ne seguo il verso Quando lei Ha le ali Ondeggianti Faccio un taglio Ondeggiante Quando lei Ha delle rientranze Vado anch'io Di rientranza Fatto ciò Ho la mia Bella Farfallina Stampata Non faccio Altro Che Ricalcarne I margini Sulla card Nella parte Anteriore Segno anche La linea Mediana In cui passa Il corpo Della mia Farfallina Che dividerò Esattamente A metà A questo punto Non mi rimane Altro Che Ritagliare Anche Il margine Che ho disegnato Sulla mia Card Ok Prima di Assemblare La card Vorrei Un attimino Acquerellare La mia Farfallina Con dei toni Che stiano Abbastanza Bene Bagno Un po' La card Quindi Inserisco Dei colori Col Color brush Dei colori Che rendono Più interessanti La mia Farfallina E soprattutto Che viene Un tono Di Homemade Dipinto A mano A un bigliettino Prestampato Insomma No Quando con Il color brush Volete soltanto Rubare un po' Di colore Ed Inserirlo All'interno Di un elaborato Più netto Potete anche fare così Con una punta Di un pennello Scaricare il colore E usarlo A mo' Di acquarello Mi raccomando Rimanete Entro i margini Dello stampato Se no Rovinerete Tutto Il lavoro Il senso Anche Del margine E poi Con una pennina A tratto fine Riprendo un po' Quello che È Il bordo Della farfalla Quindi Riprendo il timbro E questo Dà di nuovo Nitidezza E volume Vedete A tutta la farfallina Meraviglioso Allora A questo punto Siamo pronti Per assemblare La nostra Card Che è pronta Per spiccare Il bolo E allora Con la stick Una carta Da sacrificio Che non ci interessi Appiccichiamo Prima Metà Farfallina E appiccichiamo Ben bene Non ci preoccupiamo Se ci sono Dei disavanzi Di margine Cartacei Potremo Ritagliarli In un secondo Tempo Prima di Appiccicare Le carte Sporchiamo I margini Con del verde Così Tampone E verde Se non avete I tamponi Potete usare Delle normalissime Spugnette Da fondotinta Sporcate Con il colore Acrilico O con qualunque Inchiostro Voi avviate A disposizione Lavoro Inverso All'interno Quindi Sporco di colla La parte Decorata E appiccico Al centro La parte Per il messaggio Adesso Passiamo A tampone I bordi Di tutta La card Per renderla Un pochettino Più Gradevole Alla vista A questo punto Inserisco Qualche avvellimento Del tutto Ovviamente Facoltativo Io li ho E li metto E adesso Con una fustella Con quello che avete Praticate Un buchino All'attaccatura Di ogni Ala E da questi Buchini Farò venire fuori Il laccetto Per legare La farfallina Taglio a metà Il laccetto Che deve essere Proprio piccolo Faccio Un mini Nodo Da una parte Proprio Un nodino Minuscolo Con la punta Delle porbicine Faccio passare Il laccio Dentro al buco Faccio la stessa cosa Anche dall'altra parte Quindi Facciamo Un fiocchettino Minuscolo Perché Non deve Assolutamente Disturbare La composizione Il messaggio Che ho scelto Per voi È Apri le tue ali E vola Quindi In inglese Naturalmente Spread your wings And fly E voliamo ragazzi Voliamo insieme Ecco il mio messaggio Per voi Tiriamo il fiocchetto Lei si dischiude Aprite le ali E volate ragazzi Che sia un volo Pieno di felicità Colore Gioia Vita E non abbiate mai paura Di volare alto Ora Vi lascio alle foto E noi Ci vediamo dopo Che ho ancora qualcosina da dirvi Ciao Visto che è delicata La nostra card Che bella Che si chiude Carina È una card Motivazionale Molto bella Delicata Preziosa Un piccolo Cadò Per una persona A cui si vuole augurare Di spiccare Un volo Fantastico È carina Anche la versione Piccolina Quella che ho fatto Con la chiusura Con automatico Ve l'ho messa Tra le foto Non ve l'ho fatta vedere In corso d'opera Perché è molto intuitiva Però Pensateci Per chiudere i bigliettini Potete usare Anche un piccolo automatico E viene bellina Lo stesso Avete visto anche L'utilizzo dei timbri Avete visto L'utilizzo del timbro Stampata Nella card Con l'automatico In foto E l'utilizzo del timbro In maniera Artistico-pittorica Potete aiutarvi Con la sagoma Col timbro Ma poi Sbizzarrirvi Con i colori E creare qualcosa Di vostro Personale E artistico Se questo video Vi è piaciuto Regalatemi un pollice in su Condividetelo Sulle vostre pagine facebook E soprattutto Venitemi a trovare Sul mio canale Ombretta E sul mio canale Due Cuore e una K Quello che ho insieme A quel pazzo di Gabriele Il canale di cucina Per il resto Non ci rimane altro Che ritrovarci sempre qui Per il prossimo video Da Ombretta E da Arte per te È tutto Alla prossima Ciao Ciao